Il ciclo di allevamento della tinca gobba dorata culmina con la pesca degli esemplari che raggiungono la taglia commerciale. La tinca si pesca quindi prevalentemente da maggio-ottobre. La pescata è un'operazione abbastanza complessa e le tinche si pescano facilmente con le nasse, trappole con ingresso a imbuto da cui il pesce non riesce a uscire e dentro le quali viene attirato con pane o altro mangime. Oppure si pescano con reti a strascico dalla maglia fine. In questo caso il pesce non deve rimanere intrappolato nelle reti ma deve essere spinto verso la riva della peschiera fino alla chiusura a sacco della rete alla successiva raccolta. Le reti possono essere trascinate da due trattori, uno per lato della peschiera, ma più di frequente vengono tirate a forza di braccia in movimento coordinato da due o più allevatori. Gli avannotti e le tinchette ancora troppo piccole vengono immediatamente liberate, mentre le tinche d'Italia vengono tenute vive nei secchi, cambiando frequentemente l'acqua in attesa del trasporto e della vendita.